Anfaccia a tutti ragazzi, qui è Cane del Lupo e bentornati in nuovo a Cane del Cooke Siamo a 94 punti tipo, siamo mid contro Ryze, quello ha preso Ryze, cazzo ho detto prendo Cassio qui e vediamo cosa fare Prezzo Cassio mid, Cassio è molto più forte di Ryze, potrei vincere 1 vs 1 ma, guess what, hai tanto main mid Quindi, probabilmente può essere quello che lo perdo Let's see Vediamo questo qua, è Challenger Challenger main mid, non so Questo è Challenger main mid, Challenger 400 punti con 60% più rate, quindi sicuramente non smurf Quindi non so se riesco a giocarmela bene, vediamo Diamo del nostro meglio E let's see Let's see Se possiamo vincere Sarà ardua, però Let's try man, what is the problem, let's try Just go man, just go No clue, no clue Ok L'ho lì ha lasciato Questo è un main mid, ha lasciato la mid a questo Poter me L'opposto Non so neanche se mi convenga iniziare D o DQ contro Contro Rhyze, credo che mi convenga iniziare di D e però per zonarlo Non lo con l'attacca, non lo con l'attacca, forse la Q Potrebbe essere meglio, tanto lui la Q me la puscia prima di me Però se mi metto D a zonarlo là probabilmente la puscio prima io Non so se dovrei startare di Q o D e veramente Sto pensando di startare di Q o D e vado molto aggressivo Però perdo subito il mana e poi lui mi puscia Se inizio di Q invece 60 mana Lo vediamo, lo vediamo Let's see Farò la ultima ogni volta che lui farà la doppia V Quando lui mi fa la doppia V che mi vuole fare la combo io lo ulto Farò sempre così Ma vediamo Inizio di E Il primo livello è so più fortissimo Se riesco a zonarlo Devo fare livello 2 prima di lui Se faccio livello 2 prima di lui Probabilmente vinto la lane Non so più fortissimo No, flexible, estremamente Ok, bene What the fuck Mi è gancato a livello 2 Ho preso pure i Rhyzer, la Force Blood Mid è doomed Io purtroppo devo giocare così aggressivo Jax Jax, Dante, Death I.S. e Entra Molo c'ha la Force Blood No, sono cazzi nostri, non abbiamo neanche le golle con la goccia Noi Piasco Eh, tranquillo Ho anche ferrato il Flash, tra l'altro Io l'ho lane messa malissimo Mi sono fatto aiutarlo qua Buongiorno 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 Questo sta buongiorno Mi casa lo prende Buongiorno Buongiorno ma non ho mai morto quindi metto qua in fogo e ho la control perfetto non posso andare aggressivo perchè c'è Jax in quel side eccolo qua vedete mi sta settando non lascia la wave così good, good shit man good fucking shit ma con da non mi serve il risco al mana Jax sitting there trying to play aggressive Jax mi sta settando quindi non riesco proprio a giocare aggressivo 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 come dovrei giocare questo mi ha pushato la wave questa wave me l'ha toccata per forza l'isin che sennò non è possibile che mi pusha contro credo che faticso qui Già che dovrebbe essere bot side adesso Io qua voglio rimanere lenne per contestare Tutta la farm a Jax Non voglio per forza romare bot Potrei romare anche bot Ma essendo cazzo contro Rhyde Quello che voglio fare in realtà La mia intenzione È quello di contestare la farm a Jax Non è tanto Di Rhyde Che alla fine non gli ho contestato quasi niente Adesso freeze E vediamo cosa fa Rhyde Non è tanto Non è tanto Non è tanto Comunque c'ho sta wave così poi posso Tipo Divarlo Oh Feels good Ho visto sta wave e vado bot Probabilmente Missa Rhyde Andiamo 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 Con la cia flash che io a tutti Dovevo flasciarlo Dovevo flasciarlo Avrei dovuto flasciarlo, my bad Vabbè dai, abbiamo fallato il rom di Ryze Abbiamo fatto fa... abbiamo ripreso una kill È good così Se le sim fosse rimasto a proteggere la ulti di game Probabilmente non sarei morto però È ok Compriamo Non preferirei avere... No, non mi serve Cioè le pozioni mi potrebbero servire Sì, impriamo le pozioni Rhyze ha la roba chiusa Rhyze ha la roba chiusa a sto minuto È veramente grosso Rhyze Però io più ogni momento nel game Non voglio repillare Faccio morello, dopo il morello vado gli rely E sono pretty a posto No, 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 non puoi invadere là Non puoi invadere, arriva Rhyze Non puoi invadere adesso Easy Abbiamo il top in base Il mid è in base E quello in base Top side Non è intelligente come cosa No, no, mid Non lo è per niente Ok, arrivo bot Zero non ho la saxton Quindi posso armare bot E soprattutto posso armare bot Perché Rhyze è la top side What the fuck Porca troia Ho fatto lei sul minion Ho fatto lei sul fucking minion L'ho fatto Ho fatto lei sul fucking minion Porca troia Che boost No, mi devo fare l'archangel Prima della reale mi faccio l'archangel No, non c'è fanciolo niente Che ho fatto lei sul minion Yeah, yeah, sorry Really bad Holy shit, man Orca boia Quello era morto Ho ferrato lei Ma vaffanculo Cane luco Comunque io non dovrei romare Con Cassio contro Rhyze Però Rhyze è andato top side Mi avrei avuto un ottimo round Quello A parte che l'avrei avuto qui là Senza muoverci Quella sono stupida Spacca ho fatto lei sul minion Mamma Joio Sì Grazie. C'è Jax qua Ok Ha poco mana raits Quindi non è che può followare L'azione di Jax C'è Jax qua C'è Jax qua C'è Jax qua C'è Jax qua Porca poia Ho sbagliato passato di là Pensavo di poterlo Triccare invece Forse si faccio la relay Però lo posso cessare per di più Gli slovo sicuramente Sarà meglio la relay Almeno così lo slovo Mi serve per forza la relay Contro sto Sto rides Cioè contro rides in generale Quindi posso prendere le skill Faccio la A e prendo la skill Eh quest'autore cade adesso Ho avuto una flash Ai 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 Questa cosa botte Mi ha fatto perdere un casino Perché ho perso la pressure Perché avevo mid E lui ho free farmato È la cosa più Bede che è successa Poi tra l'altro Sto giocando molto bene Tra l'altro però Jax sta tipo sitando solo mid Quella wave è messa malissimo Quindi cuscerà contro Cioè cuscerà Contro lui Quindi vado a prendere Broda solo così Oh nice E' bello di ci stare qua Perché rides sta qua Vabbè Arriva rides bot Ma non posso seguirlo No non lo seguo Se rides mi sta aspettando qua Mi leva troppo Quindi Prodisco di rimanere qua A pushare la torre Oh non mi clicca la E sto cazzo Oh Quello era un Jax Quello era un Jax Ho visto male Qua An enemy An enemy An enemy has been slain Buongiorno, ragazzi. E' buon attacchi a aspettare qua. Andiamoci diretti. Non è molto importante, credo. Buon idea, ragazzi! Ok. No, in teoria la pignetta dovrebbero prendere... Vai da questo cazzo di drago Nice I drago li fa danni a Mokai Ah vai Ah Ahiaia questi skillshot Buono buono Vado inside Dovrei killarlo Rai Zuno Però adesso se si fa la vista Non so se lo killo Perché adesso se si fa la vista C'è veramente tanti scudi Però gli faccio una merda di danno io Gli faccio tanto tanto danno Lui sta a livello sopra Tra poco farà Boom Bitch Let's go Vabbè io gioco parecchio male sto game Ma non tanto Il lane Il lane ha giocato anche abbastanza bene No 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 Lascia il lane Il lane ha giocato anche abbastanza bene In realtà È sui rom Ho sbagliato là quella cosa sui genio Ma ha ponito un casino Il fatto che ha preso la force blood A livello 2 Perché quello mi ha gancato È solo lost after Non do a gancare mid È un match up Perché quella anche con la force blood È una resistenza Un bollaggio Nel senso Oh 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 Quello è morto Mid Staglioso è bravo Comunque Ovviamente è bravo Arrivo Vado di archangel E poi potrei farmi la voice staff Ma he's dead he's dead Io non voglio andare contro mokai Quindi adesso faccio top side Però manca veramente poco per Di under archangel C'è il loro rosso Volendo potremmo andarlo a strillare Vuoi andare top e regallare poi Faccio il livello 13 Mi serve la nightless Per l'archangel So 60 danni in più E non so poi Io niente che gli faccio 60 danni in più Non so poi niente Pinghiamo che dobbiamo andare back No 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 Trinkat rosso con Cassio Forse è meglio il blu Vorrei rischio il trinkat rosso io Faccio il tempo che prende il blu Non mi deco vera Non si muoiono così vera Non mi è 9 Non si muoiono così vera Alla marina Ma questo è stato di Nibdor, good, good Non posso ci far più di così perché Hanno le summoner e io non voglio morire là Se vuole morire le sin va benissimo Nibdor non saremmo riusciti a prenderlo ma non ci saremmo riusciti lo stesso Basta che si dividevano e non potevamo busciare Però riusciamo a prendere la torre Nibdor Basta, un coglione Mi manca poco alla ult Mi manca poco poco alla ult Ma se noi possiamo rimanere tranquillamente a fare pressure Anche se lo danno in mezzo Killerize man, killerize will win Guarda troppo che wave abbiamo, rimaniamo qua Purtroppo abbiamo una wave troppo buona per non rimanere qua My bad Boh il mio team non voleva rimanere là Io sono rimasto da solo perché sapevo We could take 2, 4, 3 In my modest Opina No No Ma c'è l'ora di Fing questa? E' Yasuo No Andiamo di voice staff perché qua c'è una maria di danni questi E allo stesso tempo non riesco a contrastarli A parte che non hanno nessuno che porta AP Non hanno nessuno che dà AP Cioè che ha Magic Crisis Quindi I guess che vado per I guess che vado per Rabb No però probabilmente la prima serve Non lo so sto pensando C'è il Magic Crisis Dico comunque da anche AP Il voice staff Poi Ryze ha le Mercury Se non faccio il voice staff Nice pick Nice pick su G Ryze got stunned by the way Exhaust Zyra Nice shit man Nice shit C'è il Drago qua Qua ha fatto Flashult Ho preso Rise di Ulti Ma con le Mercury L'ho stato andato per pochissimo tempo Zyra sta aggiorando molto bene Io sto intando questa partita Però in questo momento Credo che Ryze sia più forte di me Non lo so Forse sta aggiorando una cazzata Forse cazzo se lo batte lo stesso Non credo che più andiamo all'etri Ma lui sia più forte di me Vado a farmarsa with bot Mi serve l'Archangel Ok manco Perfetto Una skin mancava Boh ho sbagliato per il QN rom Forse sto matchup dovevo giocare molto più aggressivo Ma ho visto il jungle stava sempre a cuore un po' il cazzo Il Mono non ha il Flash Però neanche Ryze ha il Flash Il fatto è che Ryze non si può avvicinare Perché aveva quella di me Se io gli faccio una Q E gli tiro dritto Poi lui non mi può fare niente E Lo stanca attento Perché loro hanno utili Ryze Hanno utili Jean Quindi in quanto già Quattaggine sta top Ok devo andare back Ho paura di pushare ancora di più qua Ryze bot Ryze è enorme Ryze è enorme È il 15 Qua stiamo chiesto prendere il blue al 15 Come on man Ok 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 Already Come on Come on Ok Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Noi possiamo lasciare il bar Non posso andare qua perché questo mi gilla, mi salta addosso e mi... Insane man Insane man Non sono riuscito neanche a fare niente Ho provato a ultare ma mi ha stunato ult a prima My bad Porca troia Sto affinando troppe cose in questa partita Stiamo guardando per colpa mia adesso Stiamo guardando per colpa mia perché muoio a cazzo Oh, stia, mamma mia questo cazzo di... Ah, il kick era good Gino flash Oh mio dio Carito scam Ma se se lo gilla Ok, Jax qua No Ok, possiamo lasciare il bar in realtà Porca troia, ho failato troppe cose Mi manca poco al boy Sto failando troppe cose Sto giocando malissimo Sto jacks lo devo killare Ho failato meccanicamente comunque perché ho failato la Q Vediamo se è wardato Seems like no Ok Stoia suo quanto cazzo ti la dritta It's good, ma C'è il loro blu E voglio andare a prendere Voglio andare a prendere il loro blu perché lui non ha Oh, merda Quanto manca il loro blu? Il loro blu manca poco Ci sta quasi Faccio il gromp Ok Non avendo full cooldown gliela posto blu Gai si lavò un casino a lui Arrivo, arrivo Ci sono, ci sono Non avendo full cooldown gliela posto blu Ci sono, ci sono Mi ha killato cazzo Vabbè GG upi GG Nice man, nice Se avessi avuto la voice staff Quanto avrei killato Non ti avrei fatto meravigli anni in più All'altra partita mi hanno cariato Tra virgolette Perché in realtà In il replay non ho giocato male Ho fatto solo quella gazzata in bot Però ho messo molta pressure Contanto che Jax Stava gankando solo me E ci sono morto pochissime volte Le gank di Jax E quando ci sono morto Una volta a livello 2 E poi quando l'altro 8 ci sono morto È venuto l'esina Abbiamo fatto double Quindi 2 per 1 Che è il good E abbiamo vinto Ragazzi Master in promo per Smurf Cioè Smurf in promo per Master Che cazzo ho detto? Smurf in promo per Master Ho detto Master in promo per Smurf What the fuck Comunque ragazzi Vi vi è piaciuto C'è un bel like Si va a contare Si va a condividere A faccia a tutti ragazzi Da Canilupo Ah beh Ti faccio vedere Che siamo andati in promo Ma ho giocato malissimo So bad man Yeah qualified for a serious 5 partite Master A faccia a tutti ragazzi Canilupo Ciao belli